Bentornati amici moscaiori, come vedete questo è il video livello 80-85, volevo farlo in una maniera un po' diversa per spiegare al meglio le zone in cui bisogna livellare, dato che altrimenti sarebbe stato troppo lungo. In questo momento sono livello 85, sono contentissimo, e vi mostrerò ora dove iniziare a livellare una volta che sarete all'80, come ci siamo lasciati. La zona è qui a Mount Heal, o come diavolo si pronunci, la raggiungete, si trova a Kalimdor, e per raggiungerla è molto ma molto semplice. In pratica, vedete questi portali? Ognuno di questi portali porta in una zona diversa per livellare da livello 80 a livello 85. Come entrare in questi portali? Andando alla piazza di Stormwind e prendendo la quest da quella specie di... dal cartello dove c'è su disegnato il leone, diciamo. Lì ti andranno alla quest che tu poi potrai entrare all'interno. Che altro dire? Dall'82 all'83 dovete andare a Deepholm dove incontrerete il grandissimo Thrall. Per chi non lo sapesse, per chi non sa chi è il grandissimo Thrall, cercate pure su YouTube e troverete tutte le informazioni varie. Quindi, sempre una solita storia, prendete la quest, la quest naturalmente si riformerà ogni volta a Stormwind, ogni volta che voi livellerete, e poi la zona 84-85 che è a fianco a Stormwind. Ci sarebbero altre due zone a sinistra, le piccole isolette di Stormwind, che sarebbero praticamente perfette. Il problema è che in questo server, ovvero WoWsock, non sono state, cioè, fixate. Nel senso, non... Se voi ci andrete, non potrete livellare, uccidere i mob e non vi daranno esperienza. Quindi è davvero, diciamo, un po' una noia. E quindi dovrete per forza fare quelle zone completamente separate, che vi ho appena detto. Lo so, è un po' una rottura, ma è l'unico modo per livellare abbastanza velocemente. Potrete anche fare un po' i pazzarelli, volendo restano più, più di, diciamo, i livelli selezionati su una zona, ma ci metterete molto, molto, molto di più. Quindi fate quello che vi ho appena detto e più o meno impiegherete per livellare dall'80-85 una giornatina. Fai più o meno 4 ore, per... Porco di... Più o meno 4 ore, dicevamo, ci impiegherete. Non è un granché di tempo. Se seguite questi consigli, vedrete che magari ce li impiegherete anche di meno. E con questo è tutto, cari amici buscoglioni. Questo video è un pochino più breve perché comunque abbiamo creato gli altri, cazzo, mezz'ora, mezz'ora di video e finalmente Orcolubio è raggiunto il livello 85 e nulla e nessuno lo potrà fermare.